coloriamo insieme siete pronti per una nuova gara dei monster track coloriamolo e poi andiamo a vedere la paurosa ed estrema pista ad ostacoli giallo blu nero grigio rosso verde grigio marrone celeste la gara si svolgerà qui in mezzo a questo paesaggio sterrato ma qualcuno non ha finito di colorare di che colore dovrebbe essere questa duna secondo voi pensate che chiunque possa superare queste dune vediamo come se la cava questa utilitaria rossa vai amico oh no è troppo ripida vai spingi di più vediamo sì è salito ma oh è rimasto bloccato in cima alla duna e non sembra ci sia qualcuno nei paraggi pronto ad aiutarlo a parte questa limusine piantata nel terreno coloriamola rosa nero nooo ma andiamo avanti guardate questa duna se avessimo avuto un motore più potente avremmo potuto saltarla ma vediamo come se la cava questa macchina blu vai 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 oh no ora è piantata nel terreno e quel fumo non promette di certo bene andiamo avanti oh ma queste sono tutte macchine che sono state abbandonate qui sapete già cosa potrebbe fare il monster track qui sopra ma prima coloriamole nero giallo rosso rosso celeste arancione verde rosa grigio macchina verde cosa pensi di fare? vediamo che succederà anche se penso niente di buono ecco ora nonostante un buon salto la macchina verde è intrappolata tra i resti delle altre auto eh sì amico sei fortunato a non esserti fatto niente ma andando avanti guardate cosa c'è due rampe con una cisterna al centro è ora di colorarla blu grigio verde grigio beige ma ecco il nostro amico che prova ad affrontare la rampa con la sua decappottabile viola ecco che parte salta ma oh finisce a terra non era proprio la macchina giusta guarda che danno potevi anche farti male ma chi tenterà di superare questa rampa ora? una macchina blu vediamo come se la cava oh lei non riesce neanche a superare la rampa riprova dai dai più gas ah niente da fare meglio tornare indietro eccola qui la pista del monster truck dovrà superare le dune la limusine di prima la grande duna le macchine distrutte e le rampe ma dove le altre macchine hanno fallito vediamo come se la caverà il nostro monster truck il pilota è pronto a salire con la sua tuta e soprattutto il casco e partiamo le dune non sono nulla per le sue enormi ruote guardate le supera senza paura e la limusine? grazie alla sua potenza cerca di buttarla giù e BAM! ci sale sopra e la schiaccia senza problemi che potenza! ed ora è il momento della grande duna prende la rincorsa e salta! grandissimo! neanche le macchine saranno un problema guardate come le schiaccia come se nulla fosse incredibile! eccoci arrivati alla grande rampa ma come se la caverà con quest'ultima sfida? oh mio dio non ci credo! che salto incredibile! il monster truck ha superato brillantemente la sfida ma non è tutto bambini vediamo quali altri assi ha nella manica cosa farà ora? supererà anche quest'ostacolo? vediamo! wow! un giro della morte! pazzesco questo monster truck! che pista incredibile! e alla prossima puntata! ciao! ciao!